Martedì 16 ottobre 2023, benvenuti sul canale La Lama ed il Pennello per questo nuovo video che, come vedete, ha per oggetto la recensione di un aftershave alcolico, la versione classic del brand Patrick's Noir, edito dall'italiana Coswell Società per Azioni, un complesso industriale molto importante in ambito nazionale e non solo per quanto riguarda soprattutto i prodotti di largo consumo per la cura e il benessere della persona, tuttora a conduzione familiare da parte della famiglia Gualandi ed avente sede nella frazione di Funo del comune di Argelato, che insieme arrivano a circa 15.300 abitanti in provincia di Bologna. In realtà in questa occasione speravo di parlare di Floyd, ma siccome non ce l'ho fatta a preparare il video in tempo, sarà quindi per un'altra occasione e quindi tratto lo stesso tipo di argomento con questo prodotto decisamente meno storico e carismatico, ma ugualmente di stampo classico per gli amanti del wet shaving, nonché di collocazione molto popolare ed economica, facilmente acquistabile nella grande distribuzione commerciale ad un costo generalmente compreso tra i 4,50 euro e di 5. La fragranza classic di questo dopobarba posso solo dedurre che sia quella introdotta per la prima volta sul mercato, o dal peggio ad essa strettamente somigliante, cosa che appare invece molto più probabile, nel 1976 e che dovrebbe avere seguito il successo decretato innanzitutto dall'Eau de Cologne, tipologia di fragranza con cui il brand Patrix ha esordito sul mercato, non mostrando però ancora la definizione di noir aggiunta invece in tempi successivi. Patrix con l'Eau de Cologne ma anche Rockford, entrambi oggi appartenenti alla Coswell con l'Eau de Toilette e ci metto anche Dracar con l'Eau de Toilette e poi Dracar Noir con l'Eau de Cologne che negli anni 80 hanno maggiormente puntato con le loro campagne pubblicitarie su questo genere di fragranze, diversamente da Denim, Mennen ed Acqua Velva, anche se gli ultimi due sono marchi notevolmente più antichi rispetto a tutti gli altri, che invece hanno sempre incentrato le loro attenzioni maggiormente sulle fragranze aftershave e quindi con particolare attenzione al settore della rasatura della barba. Patrix come Rockford che però non nascono in seno né all'attuale Coswell e né alla precedente Gauber da cui la stessa Coswell si è formata, bensì saranno acquistati da altri produttori in anni imprecisati come ascolterete più avanti. La Gauber viene fondata nel 1961 da Paolo Gualandi e Datos Bergamaschi che due anni dopo avvieranno la produzione di bagni schiuma, Ciampi e Deodoranti. Nel 1972 alla Gauber si aggiungerà anche il fratello di Paolo, Sergio Gualandi, con l'incarico di responsabile della rete commerciale di vendita che nel corso del tempo abbraccerà non solo la grande distribuzione ma anche le farmacie e le profumerie e che successivamente sarà presidente dell'azienda per molti anni. Ma già moltissimo tempo prima di trasformarsi in Coswell, la Gauber, ha segnato la nascita di marchi e prodotti di grande successo e molto diffusi ancora oggi, ad esempio nel 1975 creando Antica Erboristeria, la prima linea di prodotti in Italia a base di principi attivi naturali, così come anche Neutromed, rivenduta però nel 1990, credo la tedesca Enkel, contraddistinta invece dall'adozione del grado di acidità alcalina, il cosiddetto pH, fisso a 5,5 e quindi più rispettoso della pelle che si mantiene tra un minimo di 4,75 ed un massimo di 5,75. Nel 1988 invece viene fondata la Eurocosmesi, una divisione aziendale pensata per la produzione e la vendita di profumi e che successivamente porterà alla gestione dei brand Patrix e Rockford, come detto acquistati da precedenti aziende proprietarie in anni non indicati nelle pillole storiche pubblicate sul sito ufficiale della Coswell e purtroppo il servizio chiedimi di più che vedete impresso sul retro del confezionamento esterno della lozione Aftershave non ha mai risposto ad alcune domande che avevo posto anche in questo senso. Prima della costituzione della nuova Gaubert-Coswell, avvenuta nel 2006, si segnalano l'uscita della linea Beyoncé del 1990 a base di oligoelementi termali giapponesi, risultato di ricerche cosmetiche e dermatologiche condotte in collaborazione tra la clinica universitaria di Siena ed il centro studi termali di Tokyo, i prodotti della vape, la chiappa colore per il bucato in lavatrice e l'acquisizione dalla nota multinazionale Unilever del marchio VIM nel 2004. Infine la ormai soltanto Coswell lancia nel 2007 la linea Bio Repair, il primo dentifricio al mondo capace di riparare lo smalto dei denti, almeno così dicono, entra l'anno successivo nelle farmacie con una propria rete di vendita, acquista nel 2009 il noto marchio Prep e da qui in avanti arricchirà il proprio portafoglio commerciale con l'acquisto di altri noti brand come Fave di Fuca, Mr. Baby e Rinosol, oltre che a lanciare il dentifricio sbiancante Blanks White Shock, ottenendo inoltre la licenza per la sola distribuzione di diversi marchi, tra cui nel campo della profumeria e rasatura della barba, si segnalano in particolar modo i tedeschi Tabak e Colonia numero 4711, però tuttora di proprietà che rimane in mano a Maurer e Wirz. Tanti auguri, amore. Ah, Patrick's. Ricordi quando ci siamo incontrati? Sei arrivato proprio al momento giusto, con la tua personalità di uomo sicuro e poi quella Roma virile di Patrick's. Patrick's, per uomini che non si fanno dimenticare, una nuova acqua di Colonia creata da Louis Philippe, Monaco. E quella che avete visto è la prima pubblicità mandata in onda del brand Patrick's, datata 1980. Patrick's, come detto, ideato a partire dal 1976 dall'azienda Monegasca, o almeno credo sia Monegasca, Louis Philippe Monaco, spot che presentava l'Ode Cologne con lo slogan, che diventerà poi famoso per gli amanti del genere, per uomini che non si fanno dimenticare. Primo spot che forse appariva un po' ingenuotto, con però quello successivo del 1985, e anche esso lo vedrete in corso di recensione, sicuramente più romantico ed efficace e che riscuoterà un maggior successo, soprattutto in termini di vendite del prodotto, ma che veniva però sempre incentrato sulla versione Ode Cologne, tipologia di fragranza su cui la Louis Philippe dell'epoca ha massimizzato il proprio focus commerciale. Ed è probabilmente proprio sull'onda di questo successo che l'anno successivo, il 1986, viene lanciata immediatamente una terza campagna commerciale, che per la prima volta affianca l'Ode Cologne all'aftershave, come si può notare alla fine del breve spot televisivo. Ode Cologne, o d'acqua di Colonia, che in effetti non è dissimile da un aftershave per quanto riguarda le concentrazioni delle essenze profumate, generalmente comprese tra il 3 ed il 6%, quindi non dura molto, ed è per questo motivo che qualche anno dopo averle affiancato anche la versione dopo barba, quella di Colonia è stata sostituita da una più persistente Ode Toilette, che invece ha una concentrazione di oli essenziali decisamente maggiore, compresa tra il 12 ed il 15%. Se questo però sia accaduto con il brand Patrick's, ancora di proprietà della Louis Philippe, o dopo che sia passato nelle mani della Gauber, non saprei dire, sta di fatto che a metà degli anni 90 tutto il marchio Patrick's ha visto interessare un ampliamento della sua gamma, con la fragranza che si presume la più affine a quella originale, questa che vedete oggetto della mia recensione, che nel 1995 è stata rinominata Classic, per poi vedere commercializzate l'anno successivo prima la Musk, e nel 1997 sia la Black che la White, tutte con il nuovo binomio Ode Toilette After Shave. Ed è pertanto anche molto probabile che questo importante potenziamento sia succeduto proprio all'acquisto di Patrick's da parte dell'azienda italiana, che sia direttamente dalla Louis Philippe oppure da qualche altra realtà a seguito di passaggi intermedi, cosa che non è mai da escludere, così come è anche probabile che sia stata proprio in questa occasione ad essere stata aggiunta la definizione di noir, che come detto per tutto il primo periodo di vita del brand era noto solo come Patrick's, noir però da non confondere con la fragranza noir della nuova Ode Cologne del 1988. Per la cronaca anche il brand Rockford è stato acquistato da una società proprietaria precedente, e sempre in anno imprecisato, che venne ideato inizialmente dalla famosa società di profumeria londinese Atkinsons, che sotto il suo marchio lanciò nel 1986 la prima campagna pubblicitaria con la fragranza Ode Toilette. E Rockford, che oggi di proprietà della Coswell, vede la sua linea ben più articolata rispetto a Patrick's noir, tra aftershave, che possono essere liquidi in balsamo ed anche in spray, Ode Toilette, deodoranti per il corpo e shower gel, per un totale però di ben otto differenti fragranze. Patrick's, per uomini che non si fanno dimenticare. Il confezionamento esterno del Patrick's noir classic mostra le due grandi e principali facciate in colore nero, sulle quali si intersecano, ma solo sulla parte anteriore, delle linee rette ancora più scure, con tutte le indicazioni di colore bianco. La seconda colorazione al riporto, presente su tutti i lati stretti del cartoncino rettangolare e invece gialla con scritte nere, identificando nello specifico la fragranza classic, che da tal proposito ciascuna versione del Patrick's noir ha un suo proprio secondo colore identificativo, colore giallo presente anche sulla sola facciata anteriore, con un tracciante appuntito che corre obliquo dall'alto verso il basso. Nella parte posteriore troviamo l'inci, le istruzioni per il corretto smaltimento della confezione, del flacone e del suo tappo, una piccola propaganda commerciale che parla di una fragranza raffinata, ma che non mi trova molto d'accordo, dedicata ad un uomo elegante ma anche forte e determinato, con infine l'indicazione della società di produzione ed il suo particolare servizio Chiedimi di più, che però nel mio specifico caso non ha affatto funzionato. Tre dei quattro lati stretti riportano unicamente il nome del brand, mentre in quello inferiore si può leggere la restante parte delle altre informazioni utili sul prodotto, che sono il suo quantitativo, come si vede piuttosto ridotto di soli 75 ml, la durata della conservazione delle caratteristiche della lozione affardata dalla sua apertura espressa in mesi, in questo caso lunga di ben tre anni, ed applausi per la piccola chicca sia della gradazione alcolica che della sua concentrazione, che come si legge è una bella botta di 63,6 gradi. Di uguale forma ed anche di uguale stretto spessore abbiamo poi la boccetta di vetro trasparente da 75 millilitri, che contiene la lozione after shave di colore giallo paglierino, e più o meno è questa la porzione interessata dal solo alcol flacone, che ripete pari pari, lo stile già visto sulla confezione esterna, in questo caso però potendo sfruttare la tridimensionalità dei volumi. L'aspetto più evidente ed interessante è infatti il gradino obliquo che corre, che solca tutta la boccetta, tappo compreso in perfetta continuità, ripetendo come detto in forma tridimensionale la già vista tracciatura diagonale della colorazione che contraddistingue l'esatta fragranza, ma che comunque si ritrova anche sul vetro anteriore del flacone, esattamente come appare sulla confezione esterna. Tappo in plastica nera piuttosto squadrato, che prevede apertura e chiusura a vite, con il foro di uscita del liquido secondo me troppo grande, o comunque non filtrato da un inserto che possa centellinare meglio il quantitativo allo splash, che infatti è facile che possa sfuggire di mano con uno spreco eccessivo di prodotto. In ultimo sulla base di appoggio del flacone c'è un adesivo trasparente che riporta nuovamente l'identificazione commerciale dell'after shave, le indicazioni aziendali, la durata di 36 mesi e soprattutto grado e concentrazione alcolica. Il tuo profumo è qui con me, ma io preferisco star con te. Patricks, per uomini che non si fanno dimenticare. Patricks, Ode Cologne, after shave. Con riferimento invece all'inci, ossia all'etichetta informativa delle sostanze contenute nella lozione liquida, purtroppo ci sono notizie molto molto dolenti per i salutisti o per chi ci tiene particolarmente a formulazioni che siano il più possibile rispettose della pelle, in quanto nel Patricks Noir Classic di sostanze potenzialmente allergeniche e regolate per legge nella loro quantità, tra conservanti, coloranti ed odoranti a vario titolo, ce ne sono davvero una enormità, avendone contate non meno di 10. Tutto il trattamento della pelle ai fini del suo ricondizionamento dopo la rasatura è invece affidato alla sola glicerina liquida ed immagino che ce ne sia davvero un buon quantitativo poiché sulla lunga distanza mi sono accorto di un lascito decisamente soddisfacente, molto morbido ed idratato, tenendo però presente che il mio è il caso delle pelli grasse, che non sono riuscito ad apprezzare in tempi ragionevoli, credo più che altro per via del rilevantissimo contenuto alcolico pari al 60% dei 75 ml di contenuto e per una gradazione complessiva come già evidenziato di ben 63,6 gradi. Parlando infine della fragranza, il Patrick's Noir Classic si dimostra sicuramente molto maschile e tradizionale, fatto di note aromatiche poco ricercate e complesse e come detto molto molto alcolico. Le note di testa aprono con una classica componente speridata di bergamotto e limone accompagnate dalla leggera presenza simil speziata dell'anice. Tre sole essenze anche per le note centrali o di cuore che sono la foglia di violetta, il ciclamino ed il mughetto. Per le note di base o di fondo si trova invece la parte numericamente più consistente di oli essenziali corrispondenti al paccioli, legno di cedro, cuoio, muschio ed ambra, caratterizzando pertanto la maggior durata dell'aftershave sotto il segno del gruppo fragrantico legnoso e speziato. Ovviamente il dubbio che rimane è quello legato alla fedeltà della fragranza dell'attuale versione classic rispetto al Patrick's Purom, sia Eau de Cologne che Aftershave, lanciato a suo tempo da parte della Louis Philippe Monaco, che sicuramente coincidono in larga misura potendo offrire entrambi note muschiate, boschive e speziate, con anche la presenza del legno di cedro e dell'ambra, ma pur non potendo disporre della vecchia piramide olfattiva del Louis Philippe, le indicazioni che gli vengono attribuite sono quelle appartenenti al gruppo aromatico Fougere e ciò dovrebbe di conseguenza significare delle differenze rispetto al Patrick's Noir Classic di oggi che invece, come detto, viene assegnato più al gruppo legnoso e speziato. Sempre specificando che non sono assolutamente né un intenditore né un appassionato di profumi in generale, il primo impatto con questo dopobarba, cioè quello delle note di testa, a parte per l'elevata gradazione alcolica che a me personalmente piace sempre, non mi ha affatto impressionato, risultando a mio avviso decisamente la fase meno interessante delle classiche tre rappresentate dalla piramide olfattiva, ma che per fortuna è anche di gran lunga la più effimera. Allo splash pare piuttosto evidente che non si tratta di componenti agrumate di forte stimolazione, scelta che per i miei gusti apprezzo decisamente, ma noto anche una certa mancanza di personalità, non di grande qualità aromatica, trovandole entrambe, mi viene da dire, un po' slavate, che in ogni caso accompagnano insieme ad un'altrettanto discreta anicatura per i primi 4-5 minuti circa. Anice che personalmente ho sempre riscontrato, anche se in maniera più avvertibile, anche nell'acqua velva della Williams. Sfiammata la parte iniziale, dopo i primi 5-6 minuti circa, si comincia a percepire l'ingresso nella parte centrale della fragranza, quella delle note di cuore, anche se in maniera un po' troppo timida, dove per un paio di minuti circa si è ancora accompagnati dalla speziatura dell'anice, che è l'unica delle tre note iniziali che mi sembra capace di fare da leggero raccordo tra la prima e la seconda fase. La percezione aromatica che via via prende forma risulta sicuramente gradevole nella sua classicità, ma si capisce fin da subito che sarà priva di veri e propri spunti di rilievo, preoccupando anche un po' per la sua debole intensità, ma che poi per fortuna farà registrare un progressivo e costante aumento, che raggiungerà la sua piena maturazione ai 35 minuti circa di applicazione, quando pur non risultando particolarmente intensa, offre secondo me comunque un apprezzabile livello di gradimento. I nasi più esperti e conoscitori delle fragranze probabilmente potranno cogliere le esatte sfumature regalate da due delle tre componenti delle note centrali, che sono la foglia di violetta e il mughetto, ma anche per un utente decisamente meno esperto come il sottoscritto. Già la sola presenza del ciclamino, che è un fiore molto comune e utilizzato soprattutto per gli interni abitativi, basta ad identificare con una certa sicurezza tutta la personalità centrale del Patrick's Noir Classic come floreale. Certamente non è come camminare nel giardino del re, non mi pare che se ne ricavi una stimolazione granché frizzante e briosa, ma tutto sommato, grazie alla buonissima stabilità della fragranza, sia per la sua discreta intensità che per la regolarità di come viene espressa, devo dire che sulla distanza riesce a farsi apprezzare, per quanto appaia sempre un po' troppo standardizzata. E da questo punto di vista è forse un bene che la centralità del tema floreale cominci ad essere accompagnata da una parte delle note presenti nel fondo della fragranza, già poco prima dell'ora e un quarto di applicazione, quando si comincia ad apprezzare con una certa evidenza l'inserimento di una componente dolce, ambrata e resinata, che accompagnerà stabilmente la nota fiorita superando le due ore da quando si comincia anche a notare una leggera attenuazione della già non rilevante intensità del dopobarba. Da questo momento inoltre gradualmente subentra anche un fondo vegetale un pochino più umido e profondo che via via sostituisce completamente la parte centrale fiorita con la fragranza che si attesta a questo punto pienamente nelle sue note di base. La componente più dolce e resinata che ho personalmente avvertito come la prima ad emergere è anche quella che comincia a sfuggirmi maggiormente ad una decina di minuti dalle tre ore complessive, quando si ha la sensazione di riuscire ad avvertire anche un tocco leggermente cuoiato, ma date le mie limitate capacità olfattive non ci metto di sicuro la mano sul fuoco. Molto soddisfacente la durata del Patrick's Noir Classic, le tre ore piene si toccano con decisa soddisfazione, ovviamente contestualmente alla fase delle note di base che forse è quella che apprezzo maggiormente di questa lozione, avvertendosi sempre bene senza ancora alcun segno di sfuggenza, riuscendo a toccare anche le quattro ore, seppure in maniera molto più debole, ma che segna questo prodotto di durata secondo me notevole per essere un after shave. In sostanza quindi per quello che ho potuto capire di questa fragranza, a parte le sue peculiarità prettamente condizionanti nel post rasatura, che ricordo essere l'elevatissima concentrazione alcolica e sulla distanza anche un ammorbidimento ed una idratazione della pelle decisamente apprezzabili. Per il resto parte sicuramente con il freno a mano tirato per poi uscire sulla distanza. Personalità olfattiva sicuramente tradizionale, assolutamente adatta per concludere una rasatura altrettanto tradizionale, ma un po' carente sia sul piano del carattere sia su quello del puro apprezzamento aromatico, per quanto come detto esce piuttosto bene sulla distanza, dopo la prima ora e un quarto circa quando comincia ad esserci una certa unione tra le note centrali e quelle di fondo. Di contro la fisiologica dolcezza della parte floreale, unita ad una intensità per nulla invadente, fatta di temi aromatici abbastanza semplici e piuttosto comuni, ma comunque variegati, come note agrumate, floreali e vegetali, sia legnose che non, ma poco o nulla speziati, secondo me possono rendere adatto il Patrick's Noir Classic Aftershave per tutte le stagioni con qualsiasi clima e dotato anche di una durata davvero molto soddisfacente. Per 4,50 euro comunque ci sta, ma ci sarebbe stato meglio secondo me se il quantitativo di prodotto fosse stato maggiore, con i canonici 100 millilitri invece che i più ridotti 75, per adeguarsi da questo punto di vista agli altri aftershave di collocazione più popolare che si trovano nella grande distribuzione sulla scia dello stesso prezzo. Termino qui con la recensione del Patrick's Noir Classic Aftershave, spero che vi sia piaciuta e ne approfitto per salutare nel frattempo tutte quelle persone che hanno per la prima volta rilasciato un proprio commento ai video che pubblico e che sono Dario Raina o Raina, Fernando Micagli, Mick Vess, Eugenio Torazza, Claudio Nalon, Marco 22768, Simone Di Cappa, Jacopo Di Virgilio, Azad Zakarian e Kalos Kalos. Quindi grazie per i vostri commenti e saluti e ringraziamenti particolari ai grandissimi Fabio Cancilleri con il suo canale Rasatura e Altro con Annesso e Connesso anche il canale il gruppo Telegram, il grande chef Giovanni Danza con il suo canale Tradizioni e Sensazioni ed il grandissimo Andrea Tarenzi con il suo canale Poco Notomania che ultimamente tutti e tre stanno facendo dei video davvero molto molto interessanti che vi invito ad andare a vedere ma sicuramente lì conoscerete molto meglio di me. Per cui grazie ancora e arrivederci al prossimo video sul canale La Lama ed il Pennello.